Se arriviamo così a parlare di social media fondamentalmente, di nuovi media, di social media, il loro utilizzo da parte di politici e giornalisti sta evolvendo rapidamente per quella che è la mia esperienza e per quello che ho visto in questi mesi, sapresti tracciarmi un quadro attuale di quello che sta succedendo da questo punto di vista? Allora, io penso che ci sia stata una fase dell'avvicinamento dei personaggi pubblici e politici al web.0, che è una fase che sia completata. Adesso bisogna fare un salto di qualità. Ritengo che sia avvenuto sostanzialmente una prima fase di alfabetizzazione al web.0, che non è ancora completa, ma che è avanzata. Ora, più o meno tutti i personaggi pubblici, politici, attori dei media, sanno l'importanza e dell'importanza di questi strumenti. Alcuni hanno deciso di impattare in prima persona, aggiornando in prima persona Facebook, tenendo un canale su Twitter, organizzandosi con dei mini staff che curano l'immagine dei personaggi sui nuovi media. Altri, almeno, fruiscono passivamente. Io dubito che ci siano personaggi pubblici che sono totalmente a digiuno di web.0, anche se solo da un punto di vista di consultazione pura. si sa che ci succede qualcosa, però secondo me siamo arrivati paradossalmente a un punto in cui, appunto, superata la prima ondata, sono di nuovo tutti alla pari. Adesso bisogna fare il salto di qualità, cioè bisogna immaginare che questi strumenti non sono semplicemente uno strumento in un insieme di strumenti, ma sono un potenziale agente di cambiamento. Cioè sono un metodo, un insieme di pratiche, anche una filosofia di gestione dei rapporti con l'opinione pubblica, che richiede sforzi diversi, talenti diversi, tempi diversi, risorse economiche diverse, risorse economiche forse minori, tempi sicuramente maggiori, impegno particolare. È come se, appunto, si passasse da radio alla televisione e si usasse la televisione come gli strumenti della radio. Diciamo che fino ad adesso abbiamo fatto così. Adesso bisogna entrare nella filosofia del web, veramente. Non è un caso, le cito questo perché è quello più paradigmatico per me, che Barack Obama nel 2008 abbia dato in mano il controllo dalla redazione Nuovi Media della sua campagna elettorale, un ragazzo che ai suoi tempi aveva 24 anni, un mio coetaneo. Questo non vuol dire, a parte tutte le storie sul sogno americano, sul fatto che noi italiani siamo vecchi, che è un ragionamento che mi comincio fino a un certo punto, io credo che ci sia stato da parte di Obama e del suo staff, il riconoscimento del fatto che il web 2.0 è un ecosistema in cui ci sono persone che, per una serie di ragioni semplicemente legate all'utilizzo intensivo, ne sanno di più di altre. E quindi chi utilizza questi strumenti da più tempo per scopi professionali, anche solo per divertimento, per cazzeggiare, ha un vantaggio competitivo su tutti gli altri e in questo momento ha un potenziale di cambiamento, di innovazione molto superiore a chi invece fruisce passivamente o fruisce solamente perché gli hanno detto che lo deve fare per forza. Eppure non è bastato nel caso di Obama, due o tre anni dopo la sua elezione fondamentalmente era impopolare a livelli mai visti prima, nonostante comunque la presenza sui social. E con un punto di forza, lo dico quasi contro i miei interessi, nel senso che finché, nel momento in cui la comunicazione dovesse essere più importante della politica ci sarebbe molto di cui preoccuparsi. Invece per fortuna non è così, ripeto, lo dico da comunicatore politico avrei interesse a sostegno del contrario, però da appassionato di politica prima di tutto sono molto contento del fatto che non c'è un politico che pur con la migliore strategia possibile sui miei media possa sopravvivere all'attacchio aperto di consenso, perché ovviamente laddove la politica non dà risposte, laddove c'è indecisione, laddove non si rappresentano le istanze della maggioranza delle persone, si va inevitabilmente a finire male, ma questo va all'assenza di noi media. Noi media permettono di migliorare le cose che vanno buone, cioè di rendere ancora più interessanti, ma allo stesso tempo hanno l'effetto di amplificare negativo le cose che non funzionano. Quindi anche qui pensare che i nuovi media siano una scappatoia dei mezzi tradizionali o un altro mercato elettorale è sbagliatissimo, anche perché basta pensare al dato italiano con 20 milioni di iscritti a Facebook in Italia, chiamarlo uno strumento a parte vorrebbe dire pensare che gli italiani siano dei dissociati che vivono in un altro mondo, quando così ovviamente non è. Senti, ti vorrei chiedere, a tuo avviso a questo punto, qual è l'impatto che ha la presenza di un politico sul web, sia dal punto di vista, per esempio, dei numeri fondamentalmente. So che tu hai curato, per esempio, la campagna elettorale di Vendola in Puglia. Sì, ci sono diverse cose da dire qui, cioè prima di tutto capire quale è il livello di analisi che noi vogliamo affrontare. C'è un livello di analisi web su web, cioè che è un livello molto interessante secondo me e molto sottovalutato. Vendola, ad esempio, ha 520 mila fan su Facebook. Questo è un dato importante, dopo Erdogan è la fanpage politica più vista in Europa e lo era fino a qualche mese fa, cioè fino a prima delle elezioni in Turchia, dove appunto Erdogan ha vinto e ha sfruttato la campagna elettorale per crescere, una dinamica assolutamente fisiologica. Ci sono due cose, ma è che questi dati raramente trovano spazio sui giornali e sui telegiornali. Non ne parla nessuno, pur avendo un'eccellenza di tipo europeo dal punto di vista della comunicazione politica, nessuno ne ha parlato mai, se non qualche dorso locale dei giornali, qualche nota di colore. Però non è una questione di cui l'opinione pubblica italiana ha consapevolezza. E quindi c'è questo disinteresse da parte dell'opinione pubblica e dell'opinione mediatica nei confronti di questo tipo di informazioni. Però la cosa interessante è che comunque attraverso la fanpage Vendola può comunicare a una platea di persone molto, se avesse una sua piccola redazione personale, può produrre contenuti per una platea vastissima. Solo che, è il dato più importante di tutti, a differenza di una platea televisiva, il contenuto appena pubblicato può essere condiviso. Quindi la platea nominale è quella dei 520.000 fan. La platea ufficiale è incalcolabile, cioè di volta in volta, sulla base della qualità del contenuto, si può arrivare a, nell'ordine dei 2-3 milioni di persone. La fanpage di Vendola, quando è aggiornata costantemente, riesce a generare 2 milioni di pagine viste al giorno, che è una cifra importantissima. Vuol dire comunque che il potenziale comunicativo di Vendola è molto come Grillo, come Di Pietro, come Travaglio, che ha 800.000 fan, questo aspetto è ignorato completamente dalla ricostruzione dei mezzi tradizionali, per cui appunto si fa un parallelismo, che in Italia ancora legge abbastanza, dire la verità, tra presenza in televisione e visibilità e consenso, per cui se non ci sei in televisione sparisci dalla vita politica. Questo genericamente è vero, però lo sarà sempre di meno. Quanto più ci sarà all'unicidanza, a parte del personaggio politico o del personaggio pubblico, di investire su un proprio set di strumenti personali, tanto più la televisione non sarà più necessaria, così come per il giornalista e l'editore non sarà più necessario. Si va a un modello sempre più spesso orientato al superamento del concetto dell'editore per come è adesso, cioè l'editore come gatekeeper, come filtro tra chi produce contenuti e chi li deve ricevere. L'editore sempre più spesso dovrà essere quello il quale riesce a capire quali sono le persone che hanno già un pubblico e trasformare quel tipo di interazione tra produttore di contenuto e pubblico in un'interazione economicamente vantaggiosa per l'editore stesso. Quindi l'editore sempre più spesso si dovrà trasformare quasi in talent scout, cioè prendere il meglio di quello che succede in rete e trasformarlo in un prodotto editoriale. Eppure la stragrande maggioranza degli italiani continua ad informarsi attraverso la televisione. Sì, tra l'80 e l'85% secondo un dato census di metà luglio. E quindi fondamentalmente non è del tutto sbagliato il fatto di considerare inesistente qualcuno che non è in televisione, o sì? Sì, ripeto, nel caso italiano ha ancora un senso associare la visibilità alla presenza in televisione. Però sempre in quella ricerca census che è interessantissima, la trovate su census.it, ci sono moltissimi dati illuminanti. Il primo dato è che tra gli under 34 il 70% dei giovani sotto i 34 anni usa internet per ricevere informazioni. Quindi sotto i 34 anni stiamo parlando di due mezzi di comunicazione che sostanzialmente si equivaludono. L'altro dato interessante è il dato di attendibilità. Cioè se è vero che la televisione e i telegiornali sono fruiti in una fascia tra l'80 e l'85% degli italiani, è altrettanto vero che la domanda qual è di questi strumenti di tenete più autorevole, internet per tutto il pubblico, quindi non solamente per gli under 34 e con un spunto su una scala da 1 a 10 più autorevole rispetto alla televisione. La mia interpretazione di questo dato secondo me è che la televisione e ancora di più il telegiornale, essendo legati, come dicevo prima, a delle dinamiche di tipo rituale, per cui il telegiornale c'è all'ora di pranzo e all'ora di cena, guardare il telegiornale è quasi un accompagnamento automatico da parte delle famiglie che si riuniscono attorno al tavolo per mangiare e che accendono quasi per inerzia la televisione, la televisione guardano il telegiornale. Se non ci fossero queste dinamiche probabilmente la televisione avrebbe grandissimi problemi ad essere ancora molto forte, soprattutto i telegiornali. Ovviamente però la cultura italiana è questa e quindi ci sarà un'erosione progressiva ma che non sarà andale. È altrettanto vero che però in questi ultimi anni per la prima volta abbiamo assistito al fatto che Tg1 e Tg5 insieme non arrivano mai oltre il 50% e raramente vanno intorno al 40-41. Vuol dire che più di una metà degli italiani non guardano il telegiornale di Tg1 e Tg5. Aggiungendo anche Mentana raggiungiamo il 52-53. Però Mentana è eroso pubblico sia il Tg1 che il Tg5 ma comunque il dato è forte e dice che la quantità di offerte mediatica in quella fascia oraria mediatica di tipo informativo e non solo è tale e tanta che il telegiornale ha perso il ruolo di centralità anche in Italia a vantaggio del digitale terrestre e del web. Quindi i telegiornali possono vivere per inerzia, stanno già perdendo terreno, hanno ancora una centralità culturale che può essere sfruttata finché c'è per ripensare i codici linguistici, ripensare le linguagge della televisione, ripensare il modo di fare il giornalismo, di costruire una redazione e così via. Ti faccio una domanda a cui non so se vorrai o potrai rispondere, però ci provo. Sapresti dare una stima di tipo temporale rispetto a quando questo successivo passo verrà compiuto? Beh, se fosse una cosa puramente teorica ti direi cinque anni, tra i cinque e dieci anni. Il problema è che in Italia ci sono dei problemi tipo infrastrutturale, per cui abbiamo problemi di digital divide, la banda larga non è accessibile ovunque, per cui magari lo strumento è maturo, l'utente medio è maturo, però non è ancora un fenomeno di tipo di massa, davvero di massa, che arriva a tutti, alla famosa casalinga di Boghera, così come arriva a noi che stiamo su internet la mattina e la sera. Quindi c'è da tutti i punti di vista puramente teorico, una linea teorica senza problemi tipo infrastrutturale o politico, direi che tra i tre anni abbiamo fatto il passo in più. Lo dico sia perché ci sono molti cinque anni, abbiamo visto i primi cinque anni per avere già un cambiamento radicale, quindi penso che sia questo l'orizzonte temporale in cui dobbiamo concentrarci, sia perché nel 2020 i cosiddetti nativi digitali, cioè quelli che sono nati dopo il 1976, saranno circa 18 milioni contro i 12 di adesso e questo vuol dire che avranno un potenziale di cambiamento politico, di formazione dei gusti e delle opinioni aumentato del circa il 50% rispetto ad adesso, dal 12 al 18 più il 50%, quindi tecnologie migliori, infrastruttura più completa, pubblico più vaturo e pubblico dentro le dinamiche della rete, è un fatto proprio quasi demografico, entro il 2020 secondo me vedremo un altro Italia, un altro mondo dal punto di vista dell'informazione.